La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sul lavoro per fare chiarezza sul decesso di Pasquale Pipino, l'operaio di 58 anni morto folgorato nella tarda mattinata mentre si trovava in una cabina dell'alta tensione in via Casa Massima, Capurso, in provincia di Bari. Secondo quanto emerso, la vittima, dipendente della ditta Copan SRL di Capurso, specializzata nella progettazione di segnaletica stradale, avrebbe dovuto svolgere alcuni lavori all'interno del capannone aziendale che si trova non lontano dal luogo dell'incidente, quando intorno alle ore 13 di lunedì è entrato nella cabina a torre dove è stato raggiunto dalla scossa che lo ha ucciso. Non è chiara la ragione per cui la vittima abbia fatto accesso alla torretta elettrica che non sarebbe di pertinenza della stessa azienda e alla quale, da quanto si apprende, sarebbero state forzate, asportate e manomesse le griglie di protezione. La cabina elettrica è stata sequestrata così come quanto rinvenuto al suo interno, tra cui una scala, dei flessibili e delle grate in rame. Insieme a Pipino anche un altro operaio che è rimasto ferito e che dopo aver chiamato i soccorsi è stato trasportato in ospedale, dove si trova fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto, poco dopo l'incidente, sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco, oltre al personale dell'azienda distributrice di energia elettrica della zona. Sull'accaduto indagano i carabinieri coordinati dal magistrato della procura di Bari, Ignazio Abadessa, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Capurso, Michele Laricchia. La morte in circostanze ancora non chiare del nostro concittadino ci ha colpiti tutti come comunità, ha detto a Lanza. Marito e padre di due ragazzi lascia troppo presto questo mondo. Adesso lasciamo che chi si sta occupando di chiarire l'accaduto possa farlo nel migliore dei modi per capire la verità. È atteso intanto per la mattinata di mercoledì un flash mob indetto da CGL, Cisle e Will davanti alla prefettura di Bari, per accendere un riflettore sull'escalation di morti sul lavoro verificatisi negli ultimi giorni sul territorio barese.